Ups a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi non vi aspettavate secondo me questo video, ma perché l'ho fatto? Perché come avrete visto è iniziato il mese di dicembre. Quindi piano piano si sta avvicinando il Natale e cosa farò? Da oggi 1 dicembre fino al 25 uscirà ogni giorno un video con un trigger diverso. Sarà una specie di calendario dell'avvento, però in ASMR, va bene? Quindi adesso voi indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? E partiamo con il trigger che ho scelto per l'1 dicembre. I trigger all'inizio saranno un po' meno natalizi, andando avanti ci saranno sempre trigger più belli e più natalizi. Quindi per l'1 dicembre oggi ho scelto un libro e farò un po' di trigger con questo libro qua. Quindi cominciamo! Trovo che il tapping su questo libro sia fantastico. Ho, e dobbiamo vedere stare Grazie a tutti. 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 Il potere di un sussurro. La prima guida italiana alla SNR. Grazie a tutti. E se siete dei maschietti diventare i miei upsini, mentre se siete delle femminucce diventare le mie upsine. Il video di oggi purtroppo finisce qua, ma se voi volete potete restare ancora insieme a me perché vi lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vogliate. Ok? Quindi noi ci vediamo domani alla stessa ora per il giorno 2 del calendario dell'avvento. Quindi buonanotte ragazzi e buonanotte ragazzi e ragazze un bacione.